se sapevo oggi mi rimanevo a casa se è una giornata di ferragosto che sto facendo solo sangue marcio cioè quello che non capisco di certe donne che com'è che fanno a guardare gli uomini sposati come fanno a metterci gli occhi sopra gli uomini sposati sapendo che a mare ci può essere anche la moglie io non lo so io cioè ci sono certe no ma è una cosa assurda non li posso guardare eccolo qua osvalda osvalda vieni vieni guarda guarda quella di là non ci leva gli occhi di sopra a mio marito Pinò è una cosa assurda e lui cretino ci gioca nella sabbia e la guarda guarda qua ma non è per gelosia osvalda non è per gelosia è perché mi viene il sangue nel cervello capito perché dico non lo vedi perché tu hai sposato hai capito che sta lì raccossè che sta lì no veramente no se sapevo mi rimanevo a casa anche perché c'è troppo caldo osvalda mi sento un uovo un uovo alla cocca ci vuole picca e mi esce il pulcino dal sotto mamma mia che cazzo no ora però guarda guarda lui ci sta facendo il fosso ehi Pino Pino che stai facendo buonasera signora sono la moglie io forse lei non lo sa ma dico forse lei non ha visto che mio marito c'ha la fede nel dito forse lei non l'ha visto questo vero è sì sono la moglie auguri auguri che cosa signora auguri che cosa eh che ha due ore che c'ha gli occhi di sopra non ha niente mio marito là sotto è un uovo di pasqua mio marito è un uovo di pasqua che quando lei lo apre è senza sorprese ha capito ma guarda se ne sta andando Pino a casa poi noi facciamo direttamente conti non ti preoccupi a casa se ne parla Pino tu faccio farei il cretino che non sei altro perché sei solo cretino sei se sarei stata io sicuramente ah quanto me ne avrebbe detto lui ah se ci sarebbe stato qualche ragazzo che io parlavo con lui chissà quanto me ne diceva hai capito vada vada signora che c'è caldo vada vada a casa vada a casa caldo non ne sente non è sudata di qua eh non è sì sei certo perché lei il canto lo sente da sutta se ne vada signora rovina famiglie queste sono voi siete solo rovina famiglie e basta vi dovete rendere conto che ci sono maschi che possono essere impegnate e non si toccano ma non per mio marito perché per mia si può portare per me se lo può portare e per farci capire a queste donne a queste a queste sarà vedova capito sarà vedova sicuramente perché arraggiata e si vede si vede e che tu credi e credi in credi non ci faceva il buco ci faceva il buco come il bambino di quattro anni non ti preoccupare che ti faccio vedere io qualche volta che tu cammini fino con il costume tutto così ti vengo io di dietro e te lo abbasso così e così ci faccio vedere a tutte che da sutta non è niente e non ti guarda più nessuno che nervi che nervi che ho no che ho i nervi perché io mi trattengo io 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 dovessi accadere a te io ti dovrei accadere va bene matrimonio non consumato consumato solo poche volte non sono né soddisfatta e manco fu fu rimborsata meglio meglio che non parlo meglio che non passano via tutte ecco qua tutti già sono i curiosi che è finita la festa andate a casa andate a casa curiosi a cortigliare andate nelle gabbine andate ma vedi che non è successo niente non è successo niente va male pino vatti a fare il bagno va a fare il bagno appena stasera mamma mia ora ti faccio vedere io che io ricambio capito a casa stasera comincio a chattare capito comincio a cercare qualche compagnetto di scuola hai capito ma io però vado direttamente con i fatti io non ne faccio cretino come te qualcuno può pensare che sono gelosa no signora non sono gelosa queste donne lo devono capire che quando c'è un uomo che c'ha la fede si devono informare prima che guardano ma poi dico fatti il bagno fatti che cosa c'aveva meglio di me che cosa c'aveva meglio di me che guardare che c'aveva un buco e a me non mi ha fatto mai niente scusate signori mi scusate mamma mia che non me ne vado io basta ultimo giorno di mare questo è perché io qua il sangue mi sta diventando maccio osvalda mi dispiace un bello calcio filomena non è filomena filomena osvalda l'ha visto falla venere qua falla venere no è assurdo mamma mia di 9 indietro sta tornando talia se ne devi aiutare talia oh ma è una grandissima ma io come se cioè si sta buttando a mare ha visto che mio marito si buttò a mare e si sta buttando pure dentro Samara Samara vieni qua prendimi e salva gente amore ancora ci vado io amore ah così ah così ci faccio capire quello che significa che i mariti degli altri non si toccano vai a prendere subito il salvagente su la camera d'aria quello che è ho la camera d'aria io quello del cane non ha capito io non so nuotare ma non ti preoccupare che ora la forza mi viene di nuotare a galla riesco non ti preoccupare che pino sto venendo pino pino sto venendo col salvagente non ti preoccupare a presto a presto a presto a presto